Come lo immaginate, il panettone, che quando lo tagliate sospiri il profumo di Natale e le fette nel piatto siano un fiore fragrante, che sia glorioso di canditi e ovette, ma soffice, morbido, leggero? Ma se invece immaginate il panettone di pasticceria, volete che il cioccolato lo ricopra tutto e si nasconda anche dentro a sorpresa? Ma allora voi immaginate il panettone motta! Ragazzi, notta!